Nonna, mamma e figlia decidono di andare a cena fuori insieme, si chiede, vanno al ristorante e poi quando rientrano a casa passano in un vicolo stretto e buio, a un certo punto a metà vicolo si trovano davanti un bestione di 2 metri, 90 kg, gigante, palestrato, fa ora o mi date i sordi o vi violento tutte, si mette davanti la mamma, no, io non ti do niente, non mi piega uno come te, si chiede, questo la piglia, la guanta, la violenta, va dalla figlia, o mi dai sordi te o ti violento, no, 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 io non mi piego, si chiede, questo la guanta, la violenta, va dalla vecchia, o mi dai sordi te, si chiede la mamma e la figlia, no, dai, la nonna è vecchia, ti si dà sordi, si chiede la vecchia, no, 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 qui non ti dà niente a nessuno, sa?